Calano i positivi e ricoveri in Abruzzo dove si spera di poter tornare al più presto in zona gialla. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verie Perocauta e aspetta l'arrivo di nuovi dati. Nella nostra regione abbiamo un andamento dei nuovi contagi in costante diminuzione ormai da alcune settimane però resta ancora alta purtroppo la pressione presso gli ospedali. Siamo al 19 per cento per quando riguarda l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 38 in area medica. Questo significa che abbiamo un indicatore sicuro per tornare in zona gialla. Adesso vedremo qual è l'andamento dell'occupazione dei posti letto in area medica e senz'altro l'auspicio è quello perché già da alcuni giorni abbiamo questa diminuzione. Intanto la regione ha lavoro per sopperire alla carenza cronica di personale infermieristico nelle strutture sanitarie. In Abruzzo mancano all'appello 1700 infermieri. Abbiamo avuto proprio alcuni giorni fa un incontro con le organizzazioni l'Opi, l'Ordine di tutti gli infermieri in quanto la nostra regione è una delle poche regioni che ha sottoscritto quello che è un tavolo di confronto permanente con le organizzazioni, con gli ordini e quindi degli infermieri la possibilità attraverso questo confronto di portare avanti le istanze degli infermieri. Importanza e realtà che nella nostra regione avranno un ruolo determinante, specialmente con la nuova riorganizzazione della rete territoriale che vedrà l'infermiera a primo posto come elemento fondamentale di direzione, di coordinamento delle case della salute, degli ospedali di comunità, delle case diciamo di comunità, ma soprattutto voglio sottolineare quello che la nostra regione ha fatto per quanto riguarda l'aumento delle assunzioni. Nell'ultimo periodo, nel periodo Covid, abbiamo assunto circa 1600 infermieri, una metà a tempo determinato, un'altra metà a tempo indeterminato. Manca ancora un numero importante perché avrà una funzione rilevante quella che è l'infermiera di comunità.